Buonasera a tutti, cari amici, ringrazio voi che ci state ascoltando, ringrazio subito Giacomo Vagni dell'Università di Lausanna che ci aiuterà in questa serata in un inizio di rilettura con Dante, poi Giacomo ci spiegherà anche il lavoro che sta dietro a questa sua presentazione. Io volevo in veramente due parole dire perché Russia cristiana parla di Dante, che può sembrare una cosa strana, può sembrare un po' lontana, invece assolutamente no, ci sono almeno due motivi. Uno molto banale e storico è che Dante è sempre stato un grande interlocutore della cultura e della tradizione russa, lo è stato anche in maniera del tutto particolare nel nostro secolo, letto da grandi pensatori, da grandi poeti, a partire da Mandelstam, per arrivare sino a Olga Sedakova, che tra l'altro gli ha dedicato uno stupendo articolo sul libro che Russia cristiana ha pubblicato, l'Apologia della ragione, e questo è un motivo storico. Poi c'è un motivo essenziale, profondo, perché Dante è colui che in maniera assolutamente evidente, assolutamente privilegiata, si pone la domanda su che cosa sia l'uomo, che cosa rende l'uomo veramente tale, ed ha una risposta che per noi, tra l'altro in questo momento storico, con la pandemia che ci assilla, è particolarmente importante. L'uomo è realmente uomo, è pienamente uomo quando è capace di mantenere un rapporto con l'eternità, con qualche cosa che gli permette di superare le difficoltà, le circostanze, che gli permette di stare nelle circostanze vivendo pienamente. L'uomo come rapporto con l'eternità. E Dante a questo punto ci spiega un'altra cosa, che questo rapporto con l'eternità rende pienamente tale la ragione. La ragione ha bisogno, è l'intelligenza che ha bisogno della fede per essere realmente tale. E allora ci fa scoprire, ripeto in questo momento particolarmente importante, ci fa scoprire un rapporto dove ragione e fede non sono più in contrapposizione, ma vivono insieme per la pienezza dell'umano. La fede non ha bisogno di difendersi da nulla, afferma la pienezza dell'umano ponendo se stessa e mettendoci di fronte ad un'esperienza capace di vincere ogni circostanza. Questa è la grandezza di Dante. Questa è tra l'altro il motivo per cui è così caro a chi si occupa di cultura russa, perché la cultura russa come noi abbiamo imparato ad amarla in Russia cristiana è esattamente questa, è la testimonianza di questa integralità e della potenza di questa integralità per l'uomo in ogni situazione, in ogni condizione. A questo punto io lascio la parola a Giacomo, lo ringrazio ancora di questa cosa stupenda e è suo, è suo tutto il campo. Giacomo spiegaci anche da dove nasce questo lavoro e come possiamo continuare a seguirlo, come potremo continuare a seguirlo. Grazie ancora a tutti. Grazie Giacomo. Grazie, grazie mille Adriano. Anch'io ringrazio ciascuno di voi per esservi collegati, per essere qui per questo momento insieme, che per me nasce da una lunga passione e un lungo lavoro. Io sia di lavoro, lavoro all'Università di Lausanna in Svizzera e faccio ricerca nel campo della letteratura italiana e insieme a questo però da tempo collaboro con Franco Nembrini, che immagino molti di voi conosceranno, proprio in un lavoro su Dante, sulla Divina Commedia, un lavoro di immedesimazione con l'esperienza umana e cristiana di Dante, che cerca un incontro vivo oggi con questo testo, con questa figura e da cui è nata già un'edizione commentata da Franco Nembrini e illustrata da Gabriele Dell'Otto dell'Inferno, che è uscita l'anno scorso per Mondadori e insieme abbiamo preparato una nuova edizione del Purgatorio, sempre con i commenti di Nembrini e le illustrazioni di Dell'Otto, che uscirà il 12 maggio. Ed è proprio da questo lungo lavoro, durato anni insieme su Purgatorio, che nascono alcune delle riflessioni, degli spunti che vorrei condividere con voi questa sera. Questa sera il mio vorrebbe proprio essere un invito al Purgatorio, un invito per ciascuno a rientrare in questo mondo e in quest'opera, la seconda cantica dantesca, che ha delle peculiarità che ce la rendono particolarmente vicina, in generale e in particolare in questo tempo. Spero che leggendo insieme alcuni passi dai primi tre canti, che fungono proprio da introduzione alla cantica, potrà essere chiaro perché. E per iniziare, ho preparato i testi che vi proietto così che possiamo seguire insieme. Vorrei proprio leggere un testo del saggio di Olga Sedakova, citato poco fa da Adriano, che mette subito in chiaro un tema importante, una delle particolarità del Purgatorio. Scrive Sedakova, nonostante l'equivoco abbastanza diffuso a questo proposito, il Purgatorio non rappresenta una zona intermedia tra la condanna dell'inferno e la beatitudine del Paradiso. L'aldilà dantesco non è triadico, ma si suddivide sostanzialmente in due parti, dannazione e salvezza, oppure morte e vita. Il Purgatorio è nettamente una sfera di salvezza e di vita. Ora, questa può essere insomma un'ovvietà, questo è il Paradiso Cattolico, non è semplicemente il Paradiso dantesco, ma mi sembrava importante mettere in chiaro subito questo aspetto che è particolare. Le anime che Dante incontra nel Purgatorio sono anime di santi, sono anime già salvate, che però, prima di poter entrare in Paradiso, devono affrontare un percorso di purificazione. Allora è come se quello del Purgatorio fosse un tempo di apparente sospensione. Le anime sono già salvate, lo sanno, sanno di essere destinate al Paradiso e niente glielo potrà togliere, e però non sono già arrivate. È un tempo dato per una purificazione, per un cambiamento. Quindi è anche per questo che è particolarmente vicino alla nostra situazione. Vivono in qualche modo ancora una possibilità di cambiamento, una apparente sospensione che dà frutto nel momento in cui produce un cambiamento. E vedremo di capire come Dante immagina questo cambiamento, quale sia l'oggetto. Prima di arrivare ai primi versi del Purgatorio vorrei molto rapidamente rifare il percorso con il quale Dante c'è arrivato. Anche questo è ovvio, ma c'è un aspetto che forse non tutti sempre ricordano ed è importante, ed è quello del tempo in cui Dante immagina il suo viaggio. Tutti sappiamo che Dante si perde nella selva oscura di notte e passa tutta la notte perso in questa foresta fitta e spaventosa. Più avanti nell'inferno, precisamente nel canto ventunesimo, ci sarà un'indicazione molto precisa che ci permette di ricostruire che notte fosse la notte in cui Dante si è perso nella selva. Era il giovedì santo, la notte del giovedì santo. All'alba della mattina successiva, dopo aver tentato in vano di salire da solo un colle illuminato dal sole che Dante vede come possibilità di salvezza e non esserci riuscito, ostacolato da tre belve feroci che gli ostacolano il cammino, Dante intravede un'ombra e gli chiede di avere misericordia di lui, di salvarlo. È Virgilio che gli dirà per salvarti non puoi pensare, presumere di salire da solo sul colle, ma devi tenere un altro viaggio, un viaggio diverso e Virgilio sarà appunto la sua guida. Siamo alla mattina del venerdì santo. Per tutto il giorno Virgilio e Dante cammineranno ancora nella selva, arrivando nella sera di venerdì alla porta dell'inferno, all'ingresso dell'inferno. Dante e Virgilio dunque scenderanno per i gironi infernali in un viaggio che dura all'incirca una giornata, 24 ore, e arrivano in fondo, dove si trova al centro della terra, conficcato Lucifero, nella sera, all'inizio della notte del sabato santo. Quindi la discesa agli inferi di Dante in qualche modo coincide con la discesa agli inferi di Cristo, il venerdì santo. E arrivato a Lucifero nella notte del sabato, Virgilio e Dante lo superano e dunque superano il centro della terra, passano nell'altro emisfero e quindi guadagnano 12 ore e di nuovo in quella che è ancora il sabato santo, dunque dell'altro emisfero, risalgono quello che Dante chiama il cammino ascoso, un sentiero scavato nella roccia che li riporta alle prima dell'alba della domenica di Pasqua sulla spiaggia del Purgatorio. Così in effetti si conclude l'inferno, sono gli ultimi versi dell'ultimo canto dell'inferno. Lo duca e io per quel cammino ascoso entrammo a ritornarne al chiaro mondo e senza cura aver da alcun riposo salimmo su, è il primo e io secondo, tanto chi vidi delle cose belle che porta al cielo per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Dice, parafraso, Virgilio e io entrammo in quel sentiero nascosto per ritornare nel mondo illuminato, il mondo illuminato, l'inferno che è sottoterra, per come lo immagina Dante, è tutto al buio e senza mai preoccuparci di riposare continuiamo a salire, lui per primo e io secondo, io che lo seguivo, fino a quando vidi le cose belle che il cielo trasporta attraverso una piccola apertura tonda e da lì uscimmo a rivedere le stelle. La prima cosa che Dante vede dopo la notte nella selva e il buio dell'inferno è un cielo stellato prima dell'alba della mattina di Pasqua. E così comincia il Purgatorio, dopo quattro terzine di proemio, Dante comincia a raccontare ciò che vede sbucato sulla spiaggia purgatoriale. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò di letto, tosto che uscì fuor dell'aura morta che mi aveva contristati gli occhi e il petto. Il gradevole colore azzurro contenuto nell'atmosfera senza nubi e limpida fino all'orizzonte tornò a rallegrarmi gli occhi non appena fui uscito dall'aria morta che mi aveva rattristato la vista e il respiro. Dopo il buio della selva e dell'inferno Dante torna a respirare e a vedere. La prima esperienza che ci comunica è la riscoperta dei colori e delle forme del mondo, la bellezza di tornare fuori e vedere il cielo stellato. Lo bel pianeto che da marconforta faceva tutto ridere l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta, ne riscopre con stupore le stelle e i pianeti. Il bel pianeta che spinge ad amare, dunque venere, faceva brillare tutta la parte orientale del cielo, offuscando i pesci che la accompagnavano. Sono circa le quattro, fra le quattro e le cinque del mattino, è l'ora del mattutino della mattina di Pasqua. Gli mi volsi a mandestra e puosi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuorca la prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle, oh settentrional vedo vosito, poiché privato sè di mirar quelle. Io mi voltai a destra, mi concentrai sul polo dell'altro emisfero. Dante, appunto, è non nell'emisfero come immagina Dante il mondo, c'è un emisfero, il nostro, quello delle terre emerse, che sta sotto, anche se è settentrionale perché è quello esposto ai septentriones, alle sette stelle dell'orsa, e l'altro emisfero, quello delle acque, quello disabitato, ospita però questa isoletta dove si trova il purgatorio. Quindi Dante guarda un cielo mai visto prima, o meglio, che hanno visto solo Adamo ed Eva, la prima gente. Mi concentrai sul polo dell'altro emisfero e vidi quattro stelle che nessuno aveva visto tranne Adamo ed Eva, perché Dante immagina che il paradiso terrestre fosse collocato e sia tuttora collocato proprio in cima alla montagna del purgatorio. Quindi Dante si trova nell'emisfero che era stato originariamente pensato per l'uomo e che l'uomo ha perso per il peccato. E queste quattro stelle che vede per prime sono proprio un segno di questo. E dice il cielo sembrava godere della loro luce. O emisfero settentrionale, come sei spoglio, come sei vedovo, dal momento che ti è impossibile contemplarle. Queste quattro stelle sono un chiaro segno, un chiaro simbolo delle quattro virtù cardinale infuse in Adamo ed Eva, infuse direttamente nei primi uomini e perdute in seguito al peccato. E dunque tutti questi piccoli segni indicano questo. Siamo nel mondo fatto per l'uomo. Qui l'uomo potrà ritrovare ciò che era in origine, potrà tornare ad essere ciò che Dio aveva pensato che fosse, prima che il peccato nascondesse questo. Ed è qualcosa su cui ancora Olga Sedakova è molto chiara nella sua sintesi e perciò vi cito, insieme al disegno che con Franco e gli altri con cui lavoriamo su questi testi abbiamo preparato lo schema come gli altri per illustrare il mondo dantesco. E dice Olga Sedakova, il paradiso terrestre della Divina Commedia è situato sulla vetta della Santa Montagna del Purgatorio, cioè sulla terra, nella sua parte disabitata, ma soprattutto in un luogo che è raggiungibile solo dopo la morte. È inoltre accessibile solo alle anime salvate, infine è raggiungibile solo al termine dell'intero ciclo di purificazione. Dunque il paradiso terrestre è la meta di questo cammino di purificazione, di questa scalata al monte del Purgatorio, perché l'uomo possa tornare se stesso, ma è un luogo, è una meta e nello stesso tempo è un luogo di passaggio. Dante e tutte le anime che sono in Purgatorio non si fermeranno nel paradiso terrestre, perché è ai salvati è stato promesso qualcosa di molto di più che la semplice umanità di Adamo. È stata promessa la vita stessa di Dio e dunque Dante, dal paradiso terrestre, insieme a Beratrice, che lì lo aspetta, potrà salire in paradiso. Dante e Virgilio dunque si trovano in questo momento sulla spiaggia del Purgatorio. Alle loro spalle appare un personaggio, un anziano con i lunghi capelli bianchi, la lunga barba bianca, che si rivela essere Catone, un'anima, il guardiano del Purgatorio, che li interroga, gli chiede come sia possibile che due anime siano riuscite a sfuggire all'inferno e arrivare nel suo regno. È allora Virgilio che gli risponde e riassume in breve i fattori fondamentali del viaggio di Dante e noi con lui li ripassiamo. Pochoa rispose lui, è Virgilio che parla. Da me non venni, donna scese dal cielo per li cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni. Non sono venuto da me, non sono venuto di mia iniziativa, contando sulle mie forze. È scesa una donna, una signora dal cielo, per le cui preghiere ho soccorso quest'uomo con la mia compagnia. Da me non venni. Di solito i commenti alla commedia non lo rilevano, ma sembra chiaro che sia una ripresa evangelica. Gesù dice non sono venuto da me stesso due volte nel Vangelo di Giovanni e qui Dante lo fa dire a Virgilio di sé e Dante stesso nell'inferno ha già usato questa formula. Non sono venuto da me stesso. È un viaggio che è stato voluto dal cielo ed è in effetti quello che Virgilio qui sintetizza. È scesa Beatrice dal paradiso, è andata a trovarlo. È quello che Virgilio aveva già raccontato nel secondo canto dell'inferno. Beatrice, un'anima beata, la donna amata da Dante, il grande amore di Dante non ha avuto paura di recarsi di persona tra le tenebre infernali per pregare Virgilio che andasse a salvare Dante. E anche Beatrice non era venuta da se stessa perché, come racconta Virgilio, c'è una catena di mani soccorritrici, come ama dire Franco Nembrini. Maria, per prima, si è accorta di Dante nella selva, che si stava perdendo. Ha avvertito Santa Lucia, di cui Dante era devoto, e Santa Lucia ha avvertito Beatrice, la donna amata, che è andata a chiamare Virgilio e Virgilio è andato a prendere Dante. Quindi c'è una lunga catena di tre donne e un grande poeta che si cura di lui e che gli permette di fare questo viaggio. E poi prosegue Virgilio, questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sipresso che molto poco tempo avvolgerera. Siccome io dissi, fui mandato adesso per lui campare e non lì era altra via che questa per la quale mi son messo. Virgilio dice, egli non è morto, non è un'anima dell'inferno, ma per la sua follia ci è andato così vicino che gli rimaneva ancora pochissimo tempo prima di morire e di finire all'inferno. Per la sua follia è stato prossimo a morire. Come ho già detto, prosegue, sono stato inviato da lui a salvarlo, per lui campare, per salvargli la vita. E a quel punto non c'era altra strada che questa che ho imboccato, attraversare tutto l'inferno e poi il purgatorio e poi il paradiso. L'aspetto interessantissimo che qui viene in luce è che è evidente che Dante presenta il suo viaggio come un privilegio unico nella storia, la possibilità di visitare con il corpo da vivo i regni dell'aldilà. Ma da dove nasce questo privilegio? Il privilegio del viaggio nasce paradossalmente non dai suoi meriti, ma dal suo fallimento. O meglio, nasce dal fatto che qualcuno, Maria, Lucia, Beatrice, ha avuto pietà della sua follia, del suo fallimento, del suo essere lì lì per perdersi. E dunque da questo, da questa pietà che prima, prima di ogni merito di Dante, gli si è fatta incontro, mandandoli Virgilio, ha permesso che lui facesse questo viaggio straordinario. Di qui, da questo privilegio, nascerà anche un compito. E questo compito sarà evidentemente raccontare a tutti quello che lui ha visto. Ma la prima radice che Dante sottolinea è quella pietà totalmente gratuita. E qui ora aggiunge Virgilio qual è, è la prima volta in tutta la commedia in cui lo dice in modo così chiaro, qual è lo scopo per Dante di questo cammino. Così dice Virgilio a Catone. Or ti piaccia gradir la sua venuta. Libertà va cercando, che è sicara, come sa chi per lei vita rifiuta. Dice, ti prego ora di accettare benevolmente il suo arrivo. Cerca la libertà, che è così preziosa, come sa bene chi dà la vita per lei. Catone, infatti, era un personaggio della storia romana, reso immortale per Dante da come Lucano lo descrive nel suo poema La Farsalia, che capo, insieme a Pompeo, del partito che cerca di difendere la Repubblica dal colpo di Stato di Cesare, una volta persa la guerra civile, piuttosto che accettare la tirannia del nuovo sovrano di Roma per la libertà, si toglie la vita. E Dante, in qualche modo, ora è un personaggio complessissimo, non possiamo purtroppo soffermarsi su questa figura, ma ne fa in qualche modo il simbolo, appunto, di questa libertà come bene che è più prezioso della vita stessa. Ed è questa libertà quella che Dante sta cercando. Questo è lo scopo del cammino, questo è quello per cui si vuole tornare al paradiso terrestre, essere liberi, essere liberi veramente. E ora, senza fare facili parallelismi e analogie, è chiaro che capiamo benissimo questo desiderio, questo desiderio di libertà. Ma allora, con Dante, cerchiamo di capire in che cosa consista davvero questa libertà che è un bene ancora più prezioso della vita. La prima indicazione Dante ce la dà alla fine del canto. Catone, infatti, indica a Virgilio e a Dante due gesti che dovranno fare. Inizia di recarsi dove c'è il mare e di compiere, prima di tutto, il gesto che qui il nostro pittore, il nostro illustratore, Gabriele Dell'Otto, ha rappresentato come illustrazione del primo canto. E leggiamo i versi in cui Dante lo descrive. Quando noi fummo la velaruggia da pugna col sole, per essere in parte dove ad orezza poco si dirada, ambo le mani sull'erbetta sparte, suavemente il mio maestro pose. Con Dio, che fui accorto di sua arte, porsi per lui le guance lagrimose, Ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Quando arrivammo là dove la rugiada resiste al sole perché è in un punto in cui, grazie alla brezza marina, evapora più lentamente, Virgilio stese con dolcezza le mani aperte sull'erba, per cui io, che mi accorsi di ciò che faceva, gli porsi il mio volto rivelando di lacrime. Lì rese di nuovo ben visibile il mio colorito, che l'inferno aveva coperto. Ricordiamo, è l'alba del giorno di Pasqua, nel frattempo ha cominciato a spuntare l'aurora. Qui le quattro stelle, viste solo da Adamo ed Eva. E quello che Virgilio compie è evidentemente un gesto analogo a quello del battesimo. E come lo rappresenta? Come qualcosa che lava dalla faccia quella spessa coltre di lacrime e di fuliggine, lasciata dall'aria sporca dell'inferno sul volto di Dante, che comincia a riacquistare finalmente il suo vero volto, i suoi veri lineamenti. Allora, questo è l'inizio del cammino e nello stesso tempo questa è la meta per il purgatorio. Ritrovare davvero quel volto nascosto dallo strato del male che lo nasconde. E il secondo gesto sarà quello di cingere i fianchi con un giunco che è simbolo dell'umiltà. A questo punto comincia il canto secondo. Dante e Virgilio vedono arrivare all'orizzonte una nave guidata da un angelo e carica di anime che arrivano, anime di persone morte da poco, che arrivano per la prima volta in purgatorio. Così descrive Dante il loro arrivo. Ricordate, sono le prime anime salvate, a parte Catone che però è un guardiano, quindi un po' particolare, le prime anime salvate che Dante incontra nella commedia. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descritto, e più di cento spiriti entro sediero. Il celeste timoniere stava a poppa ed era tale, era così bello, che già solo la sua descrizione renderebbe felici. E nella barca sedevano moltissimi spiriti. In exitu Israel de Egipto cantavano tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo e poscia scritto. tutti insieme a una voce sola cantavano quando Israele uscì dall'Egitto, con quanto è scritto nel resto di quel salmo. Le anime, qual è la prima cosa che fanno e che Dante vede fare? Cantano. Cantano un salmo, cantano il salmo 114, che loda Dio per la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Ancora i riferimenti alla Pasqua, alla liturgia pasquale, al rito pasquale, alla storia della salvezza, alla Pasqua ebraica come figura, come prefigurazione della Pasqua di Cristo, sono fittissimi in questo inizio del Purgatorio. Proprio a dire qual è l'origine, dove nasce il Purgatorio, cioè la possibilità per le anime di avere un percorso che le porti in Paradiso. nasce dalla morte e dalla risurrezione di Cristo, che è la possibilità di liberazione di tutti noi, di tutti gli uomini. E il primo modo in cui queste anime salvate lo festeggiano è cantare, cantare insieme. Per Dante, che sta recuperando pian piano tutti e cinque i sensi, è una grande scoperta, soprattutto nel basso inferno, non ha sentito che urla di dolore e insulti, grida di odio fra le anime dei traditori del basso inferno. E ora invece sente delle anime che cantano a una voce sola. Poi l'angelo, il timoniere, fece il segno loro di Santa Croce, ondei si gittar tutti sulla piaggia e del senji come venne veloce. Poi fece loro il segno di croce, a quel punto essi si buttarono tutti sulla spiaggia ed egli se ne andò, con la stessa rapidità con cui era arrivato. Di nuovo un altro oggetto evidentemente liturgico. Allora, qui ho riportato una frase di uno studioso molto importante di letteratura italiana, Ezio Raimondi, che a questo tema della liturgia nei primi canti del Purgatorio aveva dedicato già negli anni Sessanta un saggio molto importante, molto acuto, dove in sostanza sottolinea proprio questa attenzione che è di Dante nel dare forma a tutto il suo mondo purgatoriale, che è un mondo che vive nel tempo, è ancora sulla terra e quindi vediamo appunto il sole sorge, cala la notte e Dante per tre giorni percorrerà questo mondo, salirà la montagna. ed è sostanzialmente un tempo scandito dalla liturgia. È un tempo quindi non disgiunto dal suo significato. Una liturgia è fatta di canti, è fatta di gesti che coinvolgono la totalità della persona, perché questo è il modo in cui Dante, come dire, ci descrive quella che può essere la vita qui. La liturgia è ciò che fa vedere nella verità che cosa sia la vita nel tempo. Ed è proprio attraverso questa liturgia che poi abbraccia ogni azione, come vedremo, che abbraccia tutta la storia, anche con i suoi drammi, che avviene quel cambiamento, avviene quella purificazione che riconsegna l'uomo a se stesso. In questo gruppo di anime se ne fa avanti una e Dante dice Io vidi una di loro trarresi avanti per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo simigliante. Io vidi una di queste anime farsi avanti per abbracciarmi con un affetto tale che mi spinse a fare altrettanto. È anche simpatico Dante. Dante non l'ha riconosciuta. Non lo dice chiaramente. Non ha capito chi sia. Però gli si fa avanti con un tale trasporto che Dante non può che sorridere e ricambiare l'abbraccio. Ma è un episodio molto significativo. Il focus, l'attenzione torna su Dante. Finora ha descritto soprattutto il mondo nuovo in cui si trova. E ora al centro c'è di nuovo lui con tutta la sua umanità. il suo affetto, le sue emozioni e la sua corporeità che diventa la questione centrale dei prossimi episodi. Dante è nell'oltremondo con il corpo e come siamo nel corpo noi e quindi porta ciascuno di noi con la nostra corporeità dentro quel mondo. E qual è la prima esperienza che fa? O i ombre vane fuorche nell'aspetto. Tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Dante è lì con il corpo ma le anime evidentemente no, sono spiriti. E perciò Dante per tre volte prova ad abbracciare questo sconosciuto che però gli si fa avanti in modo affettuoso e non ci riesce. Dice ahimè spiriti incorporei tranne che nell'apparenza. alla vista sembrano corpi veri e invece sono vani sono appunto incorporei. Per tre volte strinsi le mani dietro di lei e altrettante me le ritrovai sul petto. Dante abbraccia letteralmente l'aria. Qui Dante sta riscrivendo un luogo fondamentale della letteratura occidentale d'accordo. Lui lo trovava in particolare in due passi dell'Eneide ma a sua volta Virgilio riscriveva due luoghi omerici e nell'Iliade il sogno di Achille in cui Achille sogna di abbracciare Patroclo morto e non riesce sogna di abbracciare lo spirito di Patroclo l'Odissea l'incontro nell'Ade fra Odisseo e la madre Anticlea e nell'Eneide che è l'opera che qui Dante ha in mente lo stesso episodio avviene due volte con gli stessi versi che lo descrivono ad Enea il primo nel canto secondo con la moglie Creusa che Enea ha perso per strada mentre fuggiva da Troia invasa dai nemici e ormai in fiamme e che gli riappare ormai come fantasma e gli dice di partire di andare ormai senza di lei e finito il discorso di Creusa Enea prova ad abbracciarla e per tre volte cerca di buttarle le braccia al collo e non riesce nel canto sesto poi nel viaggio di Enea nell'oltretomba incontra il padre Anchise e anche qui per tre volte tenta di abbracciarlo e non riesce perché Enea è vivo ha il corpo e Anchise no vi ho sottolineato questi queste parole che rendono come è assolutamente ovvio e naturale il clima di profonda tristezza che questi due episodi hanno nell'Eneide è Enea che sempre piange di fronte al dramma all'impossibile abbraccio con chi è morto con chi non è più qui e e allora questo episodio così così straziante che vuole rendere come dire quasi quasi visibile tutto il dolore di questo rapporto che diventa fisicamente non più possibile è preso anche da Dante anche Dante lo fa suo ma c'è come una differenza minima ma fondamentale nel clima in cui Dante colloca questo episodio così va avanti infatti il suo racconto dopo per aver dopo aver per tre volte mancato l'abbraccio di maraviglia di maraviglia credo mi dipinsi perché l'ombra sorrise e si ritrasse e io seguendo lei oltre mi pinsi suavemente disse che io posasse allora riconobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco si arrestasse credo di aver mostrato nel volto il mio stupore per cui l'anima sorrise e si allontanò e io seguendola mi spinsi oltre il gruppo delle anime mi disse dolcemente di fermarmi allora riconobbi chi era dalla voce dal nome probabilmente avrà detto Dante fermati e sentendosi chiamare Dante capisce che era Casella un suo amico fiorentino morto da alcuni mesi e dunque gli prega che lo prega di fermarsi anche lui un poco a parlare l'ombra sorrise nel gesto del mancato abbraccio è ancora presente lo stesso dramma di Omero e di Virgilio e lo stesso desiderio e però il clima è completamente diverso l'ombra può sorridere per questo errore di Dante che ha tentato quello che era ovvio non avrebbe potuto fare cioè di abbracciare un morto è come se questo incontro vissuto alla luce della Pasqua permettesse pur nel dramma un'ultima serenità che è quella che dipende dalla certezza di Dante che quella distanza quel vuoto non sono l'ultima parola ma un distacco che in qualche modo educa a un rapporto più profondo più vero ed eterno che può durare per sempre e così Dante si ferma a parlare e a cantare ancora una volta con l'amico Casella e poi va oltre arriviamo così al terzo canto del Purgatorio dove Dante e Virgilio si sono ormai rimessi in cammino dopo un episodio anche questo su cui non possiamo fermarci e che però continua nel nuovo episodio a come dire a lavorare su questo tema della corporeità in un mondo incorporeo in un mondo spirituale lo sol che dietro fiammeggiava roggio rotto mera dinanzi alla figura cavea in me dei suoi raggi l'appoggio la luce del sole rosso che ci colpiva alle spalle colpiva dietro davanti al mio corpo era interrotta perché i raggi trovavano in me un ostacolo cioè io proiettavo un'ombra contro il sole del mattino io mi volsi dal lato con paura ad essere abbandonato quando io vidi solo dinanzi a me la terra oscura e il mio conforto perché pur diffidi a dirmi cominciò tutto rivolto non credi tu me teco e che io ti guidi io mi volsi di fianco temendo di essere stato abbandonato quando vidi l'ombra a terra soltanto davanti a me Dante proietta l'ombra certo al corpo c'è il sole cosa deve fare ma vede un'ombra sola e dunque pensa di essere solo ed ecco che si volta d'improvviso spaventato pensando che Virgilio l'abbia piantato lì ancora è lo stesso errore di prima d'accordo non riesce a entrargli nella testa che queste figure che vede così reali così vive non siano corporee e Virgilio il mio conforto mi disse rivolgendosi tutto verso di me perché non ti fidi ancora non credi che io sia con te e che ti guidi anche qui nei commenti di solito non c'è ma mi sembra diciamo probabile che qui Dante avesse nella memoria il Vangelo per esempio proprio quel Vangelo di Marco al capitolo 4 qui il versetto 40 che per esempio Papa Francesco ha fatto leggere ha commentato nella preghiera sul sagrato di San Pietro del 27 marzo è quello della tempesta calmata da Gesù dove proprio Gesù rimprovera così i discepoli perché siete così paurosi perché pur di fidi non avete ancora fede ed è proprio su questo il rimprovero di Virgilio non hai capito che io ci sono che io sono vivo anche se non proietto più l'ombra anche se non sono di fianco a te con il corpo vespero è già colà dove è sepolto lo corpo dentro al quale io faceva ombra Napoli là e da Brandizio è tolto è già sera nel luogo in cui è sepolto il corpo dentro il quale anch'io a mio tempo facevo ombra ora se lo tiene Napoli ma me l'ha rubato Brindisi Virgilio in effetti storicamente è morto a Brindisi ma poi la sepoltura il mausoleo è a Napoli il corpo è stato trasportato a Napoli ora se innanzi a me nulla sa ombra non ti maravigliar più che di cieli che l'uno all'altro raggio non ingombra dunque se davanti a me non si forma l'ombra non stupirti più non stupirti più che per il fatto che un cielo non impedisce all'altro il passaggio della luce sono trasparente sono un'immagine nell'aria perciò non è stupefacente visto che sono morto che io non fermi i raggi del sole e perciò non proietti un'ombra ma qui su questo episodio apparentemente banale in cui Dante come ama fare si presenta come un po' quello che fa la figura dello sciocco si innesta qualcosa di molto più profondo così prosegue infatti Virgilio a sofferire tormenti caldi e geli simili corpi la virtù dispone che come fa non volcano i sisveli che questi nostri corpi materiali possano sentire il dolore il caldo e il freddo è opera di quella potenza è la potenza di Dio che non vuole che a noi si sveli come fa Dante ha visto fino adesso e continuerà a vedere delle anime che soffrono fisicamente come è possibile visto che non hanno un corpo questo è un miracolo è qualcosa che è reso possibile dalla potenza di Dio e che noi non possiamo comprendere ma qui Virgilio va ancora più più a fondo matto è chi spera che nostra ragione possa trascurre la infinita via che tiene una sostanza in tre persone state contenti umana gente alquia che se potuto aveste veder tutto mestier non era parturir Maria e disiar vedeste senza frutto tai che sarebbe lor disio quetato che eternalmente è dato lor per lutto io dico d'Aristotele e di Plato e di molt'altri e qui chi no la fronte e più non disse e rimase turbato è matto chi spera che la nostra ragione possa percorrere fino in fondo la via senza fine che percorre Dio che è una sola sostanza in tre persone o uomini siate contenti del fatto del quia degli effetti perché se aveste potuto vedere tutto non sarebbe stato necessario che Maria partorisse e avete visto desiderarlo in vano persone tali che se questo fosse stato possibile sarebbe stato soddisfatto il loro desiderio che invece è dato loro come pena per sempre sto parlando di Aristotele di Platone e di molti altri e a questo punto chi no il capo non parlò più e restò turbato ho voluto leggerla tutta perché è un punto centrale di questo di questa introduzione al Purgatorio qui Dante di fatto in realtà si sta richiamando a una questione filosofica molto precisa che anche nella filosofia del Medioevo era assolutamente di attualità come di preciso si possano legare lo spirito e la materia qualcosa di sensibile di corporeo e qualcosa che invece corporeo non è il corpo e l'anima e così tutte le sostanze spirituali e a questo preciso problema Aristotele e Platone avevano dato due risposte molto diverse nessuna delle quali per Dante ma sostanzialmente soddisfacenti e però qui oltre al problema filosofico puntuale è chiaro che Dante sta portando una carica esistenziale esperienziale fortissima che è quella che stiamo vedendo come io che sono nel corpo posso davvero entrare in rapporto con chi invece il corpo non ce l'ha o non ce l'ha più il vertice dell'intelligenza umana Aristotele e Platone non arriva a cogliere e definire con precisione come stiano insieme queste due dimensioni ma questo è proprio il punto decisivo come ciò che è caduco ciò che è nell'istante ciò che muore può essere salvo per sempre cioè può essere e può essere in rapporto con ciò che è eterno e che non muore è su questo che Aristotele e Platone non sono soddisfacenti ed è per il fatto di non averlo potuto capire con la forza della loro intelligenza che questo desiderio il desiderio di comprendere questo fatto è diventato la loro condanna il desiderio che è eternalmente dato loro per lutto un desiderio che non si compie e che non diventa apertura al suo compimento ma diventa una maledizione ma c'è qualcosa di più che Dante dice qui state contenti umana gente alquia che se potuto aveste vedere tutto mestier non era parturir Maria accontentatevi di vedere gli effetti e di osservare nella vostra esperienza che queste due dimensioni quella del temporaneo del temporale e dell'eterno e dell'eterno sono sono possono essere in rapporto e non pretendete di definire questo problema con le vostre forze perché la strada è un'altra se le vostre forze fossero state sufficienti a vedere tutto a capire tutto a percorrere la via infinita di Dio non sarebbe stato necessario che Maria partorisse cioè era necessario che Dio che l'eterno che l'incorruttibile prendesse un corpo si incarnasse che l'incorporeo divenisse accessibile alla nostra esperienza la nostra esperienza che passa attraverso i sensi che passa attraverso ciò che è sensibile dunque è corporeo per fare di questo che è il problema che condanna Aristotele e Platone invece un'esperienza possibile di salvezza un'esperienza integralmente umana che non è quella della pura intelligenza staccata dal resto ma della ragione che agisce insieme a tutta l'affettività a tutta la volontà insomma a tutta l'umanità dell'uomo nel rapporto appunto con Dio uomo con Cristo nel corpo che è presente ora che è presente nel tempo ecco in questa esperienza si svela un volto di Dio che è immensamente più grande e più misterioso di quello che anche l'intelligenza somma riesce a immaginare riesce a concepire ed anzi è come se volesse testimoniarlo con il prossimo incontro che ci che ci presenta che ci racconta infatti si fa avanti siamo sempre alle pendici del monte del purgatorio un altro gruppetto di anime e fra queste ancora una volta se ne fa avanti una in particolare e così leggiamo e un di loro incominciò chiunque tu sei così andando volgi il viso ponmente se di là mi vedesti unque io mi volsi per lui e guardai il fiso biondo era è bello e di gentile aspetto ma l'un decigni un colpo avea diviso e uno di loro disse chiunque tu sia mentre vai voltati ricorda se sulla terra mi hai mai visto lo vedremo è l'anima di un personaggio famoso morto sostanzialmente quando Dante era un neonato quindi qui immagina che Dante abbia potuto vederlo in qualche ritratto e quindi dice prova a vedere se ne riconosci e ancora una volta invece Dante non lo riconoscerà ma dice io mi voltai verso di lui lo guardai fisso era biondo bello e di aspetto nobile ma un colpo aveva spaccato in due uno dei sopraccigli quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai El disse or vedi e mostròmi una piaga a sommo il petto quando con umiltà negai di averlo mai visto rispose ora guarda e mi mostrò una ferita sulla parte alta del torace anche qui ancora una volta è un gesto di Gesù è di Gesù risorto che si fa riconoscere dai discepoli mostrando le piaghe della passione che sul suo corpo risorto sono ancora presenti sono quelle che che lo fanno riconoscere come lui come davvero lui e infatti anche Gabriele Dell'Otto illustrando questo questo canto ha voluto in qualche modo riecheggiare alcuni quadri famosi come come l'incrudulità di Tommaso di Caravaggio proprio per per sottolineare questo aspetto mostrare la ferita per farsi riconoscere e ora vediamo anche perché qual è qual è tutta la pregnanza perché questa ferita è così importante per questo personaggio che allora si presenta poi sorridendo sorridendo sta mostrando la ferita che che lo uccide che l'ha ucciso ma anche lui come casella sorride poi sorridendo disse io sono Manfredi nepote di Costanza imperadrice oddio ti prego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia genitrice dell'onor di Sicilia ed Aragona e di chi il vero a lei s'altro si dice e poi sorridendo disse io sono Manfredi nipote dell'imperatrice Costanza dunque ti prego quando tornerai sulla terra di andare dalla mia bella figlia madre dei due eredi della corona di Sicilia e di Aragona e di dirle la verità sulla mia sorte ultraterrena se nel mondo si dice altro era in effetti un personaggio famoso uno dei protagonisti della storia della prima metà del 1200 Manfredi di Svevia figlio naturale dell'imperatore Federico II suo erede come re di Sicilia e che negli anni centrali del 200 sostanzialmente diventa il punto di riferimento il capo del partito ghibellino in Italia e quindi sostanzialmente il nemico della chiesa viene scomunicato diverse volte da diversi papi e passa tutti i suoi anni di regno a fare guerra contro il papa e contro il di fatto insomma politicamente contro la chiesa e contro chi era alleato con lei e muore nel 1266 nella battaglia di Benevento sconfitto da Carlo D'Angiò che era stato chiamato appunto dal papa per contrastarlo quindi quando dice a Dante di la verità sulla mia sorte di che io sono salvato se per caso qualcuno ha pensato diversamente insomma si capisce perché si il dubbio potesse sorgere e in effetti lui stesso aveva fama di insomma di grande peccatore e la propaganda guelfa nemica aveva a maggior ragione diciamo rincarato la dose su tutte le cose terribili che avrebbe in effetti compiuto e così lui stesso nell'incontro purgatoriale riconosce perché così racconta a Dante poccia che io ebbi rotta la persona i due punte mortali io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona orribili furono i peccati miei ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei dopo che il mio corpo fu trafitto da due ferite mortali io mi arresi piangendo a colui che perdona volentieri ecco perché mostra la ferita sul petto ecco perché sorrise dopo aver compiuto dopo aver subito scusate il colpo mortale si arrese si rese in qualche modo si restituisce si consegna pentito del suo male a quel Dio che perdona volentieri i miei peccati sono stati spaventosi non lo nega il fatto che nel mondo si pensa che lui sia dannato ha delle ragioni non fa finta che non sia così non nega le proprie responsabilità i miei peccati sono stati spaventosi fino all'istante prima di morire ma la bontà divina infinita abbraccia così grandi che accoglie tutto quello che si rivolge a lei chiunque si rivolga a lei anche nell'ultimo istante di vita è accolto dalla bontà infinita di Dio purché ci si rivolga a lei e su questa immagine bellissima della bontà infinita che ha delle braccia delle braccia così grandi che niente può sfuggire ma che ma che non costringono nessuno chiedono la mossa della libertà di ciascuno di rivolgersi di volgersi verso questo padre con le braccia spalancate che attende e queste gran braccia aperte che possono chiaramente essere quelle del padre del figlio prodigo saranno per come un altro genio della nostra storia Michelangelo interpreta questi versi saranno le braccia che Cristo stende sulla croce così infatti si conclude uno dei sonetti più famosi di Michelangelo che dice che ormai più niente può dare pace niente di umano dipingere scolpire può dare quiete può dare serenità all'anima volta a quell'amor divino capersi a prender noi in croce le braccia e dunque quello che segna la differenza è fra il colpevole Manfredi e l'innocente Aristotele l'innocente Platone l'innocente Virgilio che non non fecero gli orribili peccati che aveva fatto Manfredi e però sono all'inferno per Dante nel senso che non hanno potuto accedere alla salvezza ecco la differenza con Manfredi è fissata dalle braccia di Cristo stese sulla croce dalla rivelazione della misericordia come vero volto di Dio come volto di Dio e nello stesso tempo e con questo concludiamo la storia di Manfredi ci svela anche un altro fattore decisivo leggo per loro maledizione si non si perde che non possa tornare l'eterno amore mentre la speranza ha fior del verde per la loro maledizione cioè per la scomunica degli ecclesiastici non si perde l'eterno amore di Dio a tal punto che non possa tornare fino a quando la speranza ha ancora un barlume di vita fino all'ultimo istante di vita c'è ancora tempo e spazio per riconquistare l'amore di Dio semplicemente volgendosi a lui e chiedendo perdono con un pentimento sincero vero è che quale incontumace amore di Santa Chiesa ancor che al fin si penta starli convienda questa ripa in fore per ogni un tempo che gli è stato trenta in sua presunzione se tal decreto più corto per buon preghi non diventa è vero però mi sono pentito all'ultimo istante e quindi sono un santo sono destinato al paradiso è vero però che chi muore fuori dalla comunione con la Santa Chiesa sebbene si penta all'ultimo momento deve rimanere fuori da questa parete cioè dalla montagna del purgatorio vero e proprio per trenta volte il tempo che gli è rimasto nella sua presunzione nel tempo che è rimasto solo sicuro di sé e fuori dalla comunione con la Chiesa a meno che dice questa sentenza non venga accorciata dalle preghiere dei buoni in questo modo Dante come dire in qualche modo è scogita questo per dire che cosa per dire in tutta la sua ricchezza quale sia quale sia il valore infinito e decisivo dell'istante del tempo è un valore assoluto perché è bastato l'ultimo istante di vita a Manfredi per salvarsi e nello stesso tempo però è un valore che ha un peso e perciò tutto il tempo che in vita Manfredi ha vissuto nella sua presunzione fuori dalla comunione della Chiesa ora lo deve riguadagnare moltiplicato per 30 Manfredi è stato scomunicato circa 10 anni significa che dovrà passare 300 anni per come lo immagina Dante prima di cominciare a salire il purgatorio e cominciare quel cammino di purificazione poi dalle precise come dire dai vizi precisi che deve scontare proprio come dire per riguadagnare per riscoprire quanto fosse prezioso tutto quel tempo che ha sprecato vivendo fuori dalla comunione e l'ultima cosa che chiede a meno che dice questo decreto più corto per buon preghi non diventi a meno che le preghiere dei vivi non accorcino questo tempo cioè non lo prendano non se ne facciano carico vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto rivelando la mia buona costanza come mai visto e anche questo divieto che qui per quei di là molto s'avanza capisci dunque quanto puoi farmi felice se riveli alla mia buona figlia costanza come mi hai visto e le riveli anche questo divieto perché qui si avanza molto grazie a chi è di là sulla terra allora chiede per questo ha chiesto che Dante facesse sapere a tutti che lui era salvato ed era in purgatorio perché vuole che si preghi per lui vuole che la figlia preghi per lui perché le preghiere dei vivi possono abbreviare il suo cammino di penitenza è come se Dante che questo tema lo riprenderà molte volte nei canti successivi suggerisca un primo modo in cui è possibile sperimentare quel rapporto con chi non è più sulla terra è morto e non ha più un corpo attraverso la preghiera che è una preghiera che è un rapporto d'amore che incide sulla vita dell'altro che misteriosamente la cambia come Dante racconterà nei canti successivi le anime del purgatorio pregano per noi e perciò è giusto ed è bello che noi a nostra volta lo facciamo per loro con questo concludo vi ringrazio per la pazienza e appunto il mio era un invito per chi vuole a seguire Dante nel suo cammino davvero è un'opera è un mondo che può dare tanto alla vita di ciascuno quindi io invito ciascuno di voi se vuole a leggere o a rileggere il purgatorio se vuole addirittura nell'edizione curata da Franco Nembrini illustrato a Gabriele Dell'Otto della quale io ho curato tutte le parafrasi quindi c'è il testo di Dante e nel testo a fronte una riscrittura in italiano corrente l'idea del nostro lavoro è proprio di renderla accessibile a tutti sia nei contenuti che nella forma e poi per chi vuole anche riprendendo il bellissimo saggio di Olga Sedakova che si trova nel libretto Apologia della ragione edito dalla casa di Matriona grazie ancora e a tutti buonanotte e Adriano se vuoi concludere grazie a tutti tantissimo per questo piacere che ci hai dato per questa reimmersione in un autore che molti di noi chiaramente hanno conosciuto da ragazzini nella scuola e adesso ci hai fatto di nuovo amare o ci hai fatto amare con ancora maggiore profondità e non posso fare altro anch'io che oltre che a ringraziarti a ringraziare chi ci ha ascoltato sino da adesso non posso fare altro dicevo che invitare a prendere in mano il purgatorio e le altre le altre parti della Divina Commedia e accompagnandole anche con la lettura di questa Apologia della ragione ricordando ancora una volta quello che dicevo all'inizio questa vicinanza incredibile prima citavo Mandelstam e la Sedakova ma tantissimi altri autori di questo del secolo scorso in Russia hanno amato Dante Flarensky che gli ha dedicato delle pagine interessantissime che poi hanno mosso addirittura lo stesso Bulgakov nella sua fantasia del maestro e Margherita a immaginare qualche cosa che era non simile certo ma almeno come tentativo come provocazione vicino all'operazione di Dante insomma abbiamo tante cose da leggere io spero che avremo ancora occasione di ascoltarti e di entrare nel mondo di Dante che è il nostro mondo restituito al suo significato profondo grazie ancora grazie a tutti buonanotte grazie a tutti